L'obiettivo era quello di realizzare insieme ai bambini fisicamente i passaggi che poi diventano anche i passaggi del fare film, ovviamente a livello più grande, però per renderli proprio concreti per loro, fatti con le mani diciamo. E qui ogni classe ha realizzato un minifilm, che poi si sono visti alcuni spezzoni montati nel trailer che andava in onda prima delle proiezioni qui al festival. Invece qui in Ex-Enel abbiamo cercato di lavorare sull'analisi, sul tirar fuori da ogni bambino o ragazzo quello che la visione del film aveva prodotto, quindi o per immagini con i bambini più piccoli andando a realizzare ognuno la sua propria locandina che comunicasse qualcosa agli altri, quindi che estrapolasse il momento più importante, oppure per una sorta di primo approccio alla critica cinematografica con un quadernino che si chiamava Cinezin, che aveva delle domande leggere comunque, però guidate per iniziare ad analizzare il film, sia per tematiche che per linguaggi, e anche questo fatto per essere condiviso con i compagni e anche con chi magari il film non l'aveva visto.